La gioia e la pace di Gesù, il Signore risorto e vivente nei secoli, sia con tutti voi, fratelli e sorelle carissimi, che siete in ascolto di Radio Speranza. Mediteremo insieme oggi un brano dell'Evangelista Giovanni, tratto dal capitolo 20, versetti 19-31. Il testo è la narrazione di alcuni momenti che vedono al centro il risorto, mentre si manifesta ai suoi. Il ritmo cronologico di questa apparizione incuriosisce. La prima manifestazione del risorto è infatti collocata la sera del primo giorno della settimana. La seconda, invece, otto giorni dopo. Colpisce questa aritmia. È la chiara testimonianza che fin dagli inizi la comunità dei credenti già si riuniva con scadenza liturgica settimanale per celebrare il giorno del Signore risorto. Il clima psicologico che il racconto evangelico ci comunica è quello del timore. Gli apostoli stavano infatti in un luogo a porte chiuse per paura dei giudei. E' ancora nel loro cuore l'eco dei momenti della passione, culminati nella morte infamante di croce, patibolo notoriamente riservato a chi si era macchiato del sangue altrui. Gesù si fa presenza viva, collocandosi al centro dell'azione. E proprio per cancellare la paura, il Signore fa un dono a loro, pace a voi. Li rincuora dicendo così. E' già nella coscienza dell'antico Israele il binomio Signore pace. Dove c'è il Signore infatti c'è la pace. Cristo risorto dissipa la paura dal cuore dei Suoi con la ricuorante presenza di Lui risorto, accompagnata dalla garanzia di una parola che conforta mentre annuncia. E mentre parla, mostra i segni della Sua passione, le mani e il fianco. Sono segni inequivocabili, che identificano senza ombra di dubbio la persona di Gesù, morto e risorto. Il Gesù della passione, della sofferenza, della croce, è lo stesso Gesù della risurrezione, della pace, della gioia. Il saluto, pace a voi, è ribadito dal Signore un'altra volta, alla seconda apparizione, e messo in collegamento con la Sua missione salvifica, partita dal cuore del Padre, missione che ora sarà trasmessa alla comunità apostolica. «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Recita il versetto 21. Perché questa missione salvifica di Cristo sia efficace, è necessaria l'opera dell'intera Trinità di Dio. Infatti, a questo punto, Gesù, alita sugli Apostoli. In quel soffio vi è la vitale azione dello Spirito Santo, che viene sugli uomini con tutta la sua potente efficacia, a causa della Pasqua compiuta da Gesù. Il Padre ha mandato Gesù. Gesù ha compiuto la salvezza mediante la sua Pasqua di morte e resurrezione. Ora è lo Spirito Santo a rendere efficace nel cuore e nell'opera dei credenti la redenzione pasquale, operata da Cristo, che da risorto dice ai Suoi, «Ricevete lo Spirito Santo». Versetto 22. Gli Apostoli riceveranno così il sublime dono dello Spirito, insieme alla potestà di amministrare il perdono, reso perennemente operante dalla grazia, che viene da Dio e si riversa su di noi in Cristo, morto e risorto. «A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati», dice infatti il Signore. Per dire poi la pienezza di questa potestà, Gesù, subito dopo, ribadisce anche il concetto contrapposto. «A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Versetto 23. «L'assenza di Tommaso, soprannominato Didimo, cioè Gemello, non gli ha permesso di ricevere il dono dello Spirito. L'annuncio degli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, lo lascerà scettico, fino alla pretesa di una prova sperimentale, dichiarata unica ragione fondante, la propria fede. «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Versetto 25. Subito dopo è descritto lo svolgersi della seconda apparizione del Risorto. Mentre i discepoli sono di nuovo in casa, stavolta è presente anche Tommaso. Gesù appare nuovamente a porte chiuse. La sottolineatura, ribadita dall'Evangelista Giovanni, ci dice della novità del Risorto. Il suo corpo ora non conosce più i limiti spazio-temporali della fisicità umana. Quello di Gesù è infatti un corpo veramente umano, ma glorificato dalla potenza trasformante della Resurrezione. Per il Risorto non ci sono più i limiti spazio-temporali che invece sussistono per gli esseri umani, incarnati nella loro fisicità. «Pace a voi!» è il rinnovato saluto di Gesù, anche in questa seconda apparizione. E subito il Risorto si rivolge a Tommaso, ricalcando fedelmente le sue precedenti asserzioni, pronunciate a sostegno della sua dichiarata incredulità. «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco». Poi c'è il marcato invito finale a vivere la fede, «non essere incredulo, ma credente», dice Gesù al versetto 27. «E' allora che da Tommaso nasce prorompente una splendida e totale professione di fede. Gesù è chiamato mio Signore e mio Dio». Versetto 28. «In queste parole vi è la fede della Chiesa, fede pasquale, che manifesta la gioia di professare Gesù Signore risorto e vivente nei secoli. La professione di fede dell'Apostolo Tommaso fa proclamare infine a Gesù una solenne beatitudine, rivolta a tutti i credenti che verranno. Gli Apostoli, testimoni oculari del Cristo risorto, sono impegnati a credere in forza del loro vissuto. Le successive generazioni di cristiani non saranno impegnate a credere a motivo della loro esperienza storica con Gesù, ma esclusivamente per la fede loro annunciata dalla Chiesa. Per questo Gesù li dichiarerà beati. «Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Versetto 29. Commentiamo infine ora i versetti 30 e 31. Sono una sorta di appendice conclusiva del Vangelo. Non appartengono più alla narrazione di un fatto, ma costituiscono la chiave di lettura del Vangelo stesso, nonché la ragione per la quale il testo sacro è stato scritto. San Giovanni parla infatti di molti altri segni compiuti da Gesù che non sono stati scritti in questo libro. Versetto 30. Affermazione questa che indica i Vangeli come testi redatti, vagliando materiale scelto tra le molte testimonianze della tradizione orale riguardanti Gesù. Il criterio usato per la selezione del materiale è invece quello di suscitare la fede in Gesù, figlio di Dio, morto e risorto. Fede accolta quale dono, che avrà come effetto, dice il testo, la vita nel suo nome. Rendiamo dunque fervide grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo e allo Spirito Santo per l'ineffabile e meraviglioso dono della fede. Facciamoci eraldi gioiosi dell'annuncio pasquale, perché il lieto messaggio della nostra salvezza giunga agli orecchi e al cuore di ogni uomo, attraverso l'efficace opera evangelizzatrice della Chiesa, Corpo Santo del Cristo risorto, che cammina nella storia umana quale segno di salvezza, nell'attesa del pieno compimento del Regno di Dio. Amen.